Come si è arrivato 18 anni a Catania, sono stati 5 anni lì, ma ho cresciuto là, quindi per me è stato bene. È un po' strano vedere contro loro perché arnavamo sempre, conosco tutti i giocatori, è un po' strano però voglio vincere, voglio fare bene. Stamattina mi ha chiamato Berluscio, ho detto che lui quest'anno sta giocando sempre, adesso è più formato di tutti e quindi lui è difensore, quindi sicuramente è contro, sicuro. Poi ho detto che non faccio toccare una palla, ho detto così. Stanno mettendo un po' di pressione questi del Catania, pulvierenti che ti raccomandano non farci del male perché sei ancora nostro. Quest'altro che dici non ti fa vedere la palla, hai detto pulvierenti che... Sì. Hai detto mi raccomando, non facci del male cosa perché sei ancora nostro. E non è vero, metà. No, ma come ho detto prima, una partita è importante per Novara perché una settimana scorsa abbiamo fatto una partita non come Intel, abbiamo giocato un po' male. E poi questa contro la Catania giochiamo a casa, quindi sicuramente i nostri tifosi spingeranno tanto, come ho fatto martedì, martedì scorso. Quindi dobbiamo vincere questa partita e dobbiamo lottare. Mi ricordo benissimo il primo gol di Serie A contro l'Atalanta. Mi ricordo bene l'anno di Zenga, abbiamo battuto 4-0 in Palermo. Si è fatto male. Quando vado a gira, tranquillo, le persone dicono dai tacca, buca lupo per domenica, poi basta, chiudono così. E Catania mi dà una marietta, un po' così. Tu condossi benissimo dal punto di vista, dal punto di vista, dal punto di vista della Catania, ma anche dal punto di demore della Catania. Come fa? È un po' possibile? Ah, non dico. Ci tengo a far bene, che è un motivo in più. Certo, non è solo quello, anzi, quello è uno degli ultimi. Per noi il motivo principale deve essere fare una bella prestazione, soprattutto perché giochiamo in casa e veniamo da una sconfitta, quindi ci vogliamo riscattare prontamente. Ho visto un paio di partite, comunque loro da anni ormai giocano con un modulo di gioco collaudato, che è il 4-3-3, quindi hanno cambiato pochi giocatori. La maggior parte sono quelli dell'anno scorso, quindi diciamo che è una squadra che è abituata anche a giocare insieme, hanno degli schemi che ho laudati. Poi sicuramente Montella avrà portato dei suoi dettami, però il modo di giocare è quello che ormai è una squadra che gioca da 2-3 anni, che sono prevalentemente gli stessi giocatori. Io ricordo positivo per quanto riguarda città, compagni, diciamo sotto l'aspetto tecnico non è andata come volevo, però è un'esperienza anche quella che ti carica il bagaglio umano e tecnico. Quindi la prendo in modo positivo, però adesso sono qui a Novara e cerco di togliermi le soddisfazioni con il Novara. Ormai il Catania è un capitolo chiuso, anche se ricordo volentieri tutto quello che c'è stato, ho fatto il mio primo gol in Serie A, quindi queste sono cose che poi mi rimangono dentro. Ormai il Catania è un capitolo chiuso, anche se ricordo volentieri tutto quello che c'è stato, è un capitolo chiuso, è un capitolo chiuso, è un capitolo chiuso. Ormai il Catania è un capitolo chiuso, è un capitolo chiuso, è un capitolo chiuso.